Oh tu che mi hai evocato, dimmi qual è il tuo desiderio, c***o e Vegeta. Drago, rendimi più forte di Kakarot! Da nuovo con sta m***a. Kakarot ha raggiunto la terza trasformazione del Super Saiyan, quindi è normale che anch'io debba averla. Per la cento novantacinquesima volta, Vegeta, non posso farlo. Che vuol dire non puoi farlo? Vegeta, sono un drago magico, ok? Non un fautore di miracoli. Stai cercando di dirmi che puoi riportare in vita i morti, ma non puoi rendermi più forte di Kakarot? È quello che sto cercando di dirti. Allora sei f***tamente inutile per me. Ciao, mi chiamo Grenola, puoi rendermi il più forte dell'universo? Ma certo, il tuo desiderio è stato avverato. A posto... Ehi Kakarot! Ehi, ciao Vegeta! Sei solo in casa, giusto? Sì, perché? Non ci credo che sto per farlo. Mi puoi insegnare il Super Saiyan 3, Kakarot? Cosa? Me lo dovresti dire un po' più forte e non ho sentito... Ho detto! Mi puoi insegnare il Super Saiyan 3? Un po' più forte? Il Super Saiyan 3! Ho detto se mi puoi insegnare il Super Saiyan 3! Aspetta, ancora non puoi raggiungere il Super Saiyan... Lascia stare, non sarai mai dovuto... Ehi, Krillin, senti un po', Vegeta non può ancora raggiungere il Super Saiyan 3! Non può raggiungere il Super Saiyan 3! Non può raggiungere il Super Saiyan 3! Ah, che coglione! Come c***o? Smettila! Come osi prenderti gioco di me? Distruggerò questo pianeta e poi la vedremo! Se non puoi raggiungere il Super Saiyan 3 non mi fai paura! Ti avverto! Goku! Tranquillo, Krillin, se prova a fare qualcosa ti proteggo. Grazie, Goku! E ora prova a prendermi, stro... Urca, Krillin, scusami, i miei riflessi non sono più quelli di una volta. Mi ha colto alla sprovvista. Ma non capisco! Perché Kakarot è sempre più forte di me? Ah, adesso si dice così! È riuscito a raggiungere il Super Saiyan 3 e io no! Io sono il principe di tutti i Saiyan! Vegeta, lo sai perché Goku può raggiungere il Super Saiyan 3 e tu no? Cosa? Lo sai? Dimmelo, dimmelo subito! È perché non sei il personaggio principale, Vegeta! Non lo sono? No, Goku lo è. Goku? Non ti credo! Papà mi diceva che io sono il protagonista! Beh, tuo padre ha mentito! Mio padre non mi ha mai mentito! Aspetta, ho un'idea! Finalmente so come sorpassare Kakarot! Drago, rendimi il protagonista! Per la cento, ventesima volta, Vegeta!